Tu non ti preoccupare, tu non ti sperare perchè non ti preoccupare Si chiamava l'avvocato, si chiamava l'avvocato, si chiamava l'avvocato, ma che è successo? C'è stata una figlia assoluta, l'avventura era un po' più Cristina purtroppo dice che hanno trovato delle cose in macchina al suo genere Ma che cosa c'è trovato? C'è un minchia rumano? E appunto, ci è? No, hanno trovato i trecchile di cose Minchia, trecchile Non ti preoccupare che la tua figlia ha usato, che ti è fuori No, invece c'è stata una domanda, dice che c'è la papà che è tranquilla, non fa bene, non fa niente Perchè c'è contare che non lo sa fare fuori Si, non è male No, l'avvocato invece c'è Guido, dicendo 38 ore, massimo due o tre giorni, dice la tua figlia a casa E appunto, vedi, perché lui ci ha... Si è avversato la colpa Si è avversato la colpa Non ci mancherebbe, perché tu ti lavavi la piccola questa questa, fammi capire Si 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 Succede, dobbiamo essere forti. Tu sei più che tu puoi mantenere il pugno.